Novi Velia, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione dell'evento Nascette a Novi, organizzato dall'associazione Nascette a Novi con il patrocinio del comune di Novi Velia. E' stato molto emozionante, una serata carica di aspettative, però tutto sommato è andata bene. Credo che, come diceva Raffaella, il paese è adatto per questa rappresentazione. Certo, come sacerdote mi va di comunicare che la nascita di Gesù non è una rappresentazione, ma è un'esperienza reale, che non solo è avvenuta duemila anni fa, ma che attraverso la nostra vita possiamo farlo rinascere, perché questo è il desiderio di Dio. Si chiama lei? Massimo. Di dove è innanzitutto? Di Novi Velia. Perfetto, fa parte dell'associazione, sì. Perfetto, le prendiamo? Niente, le monetine proprio per un farciscolare denaro, queste monetine che sono diverse da un euro, due euro, cinque euro, proprio per l'acquisto dei prodotti che ci sono negli stand, dai dolci a pasta e fagiolo e tutti gli altri... Che sono tante le specialità che dopo andiamo a... Esattamente, tutti i prodotti nostri, di produzione propria e quindi chi viene qua, oltre a vedere la manifestazione, il presepio, ha la possibilità anche di degustare questi prodotti lungo tutto il percorso dove c'è la manifestazione del presepio. Il bilancio di questi primi due appuntamenti del evento Nascetta a Novi? Sì, è stato molto positivo, di fatti da chi ci è stato, ha riferito comunque che è stata bellissima la rappresentazione con tutta la natività. Davvero, c'è stata tanta gente, Presidente. Ovviamente il rodaggio, essendo la prima edizione qua a Novi, abbiamo fatto come delle spettature hanno visto, perché un po' ci sono vari stand e postazioni, quindi non ci resta che fare gli auguri intanto di Buon Natale e ci diamo appuntamento alle prossime date. Sì, le prossime date saranno il 22 a Rutino, il 29 e il 30 a Novi, un'altra volta, il 5 a Bosco di San Giovanni a Piro e il 6 qua concluderemo l'evento Nascetta a Novi, l'evento Latalizio. Auguri e ci vediamo il 29. Auguri e ci vediamo il 29. Tantissimi auguri di Buon Natale Felice anno nuovo da Novi Velia